Ben ritrovati con Calidoscopio, oggi parliamo di Halloween. Appena si dice Halloween si crea la polemica che è favorevole, che è contrario, ma è una ricorrenza che ormai si festeggia anche qui nei nostri paesi, nelle nostre comunità, pur essendo di matrice anglosassone. Qui a Potenza giovedì 31 a partire dalle 16 ci saranno diversi appuntamenti. Si comincia con i più piccoli, con delle letture specifiche, adatte per i più piccoli, a seguire. Fino alle 19.30 ci sarà un convegno dal titolo Halloween tramite letterario e cultura popolare al Palazzo della Cultura di Potenza, tra due ospiti che abbiamo proprio oggi qui con noi e sono lo scrittore Angelo Parisi e l'antropologo Giuseppe Melillo. Il tema è proprio quello di Halloween, a seguire poi ci sarà una lettura condivisa del romanzo noir, il romanzo gotico di Bram Stoker, Dracula. Allora Angelo e Giuseppe innanzitutto benvenuti, procediamo per ordine, cominciamo con l'antropologo così ci inquadra un po' questa festività. Come nasce Halloween e perché si è diffuso anche nelle nostre comunità? Come nasce Halloween? Alcuni dicono che con l'irlandese a proda in America e da là si diffonde in tutto il mondo. In America trova una mediazione con l'aria protestante che rifiuta il culto dei santi, quindi viene depotenziato dall'idea dei santi e trova una nuova versione e fa sì che l'elemento della morte diventi un elemento principale ma al tempo stesso venga esorcizzato. esorcizzandolo si annulla quella parte penitenziale del culto e diventi un elemento festivo e comunitario al tempo stesso. Quindi Halloween per alcuni nasce nel mondo anglosassone, trova una mediazione nel mondo degli Stati Uniti d'America e poi da là si ripara in tutto il mondo. Peraltro invece immagino Luigi Lombardi Satriani addirittura dice che esistono degli elementi simili in Calabria e che i calabresi hanno fatto, si hanno esportato la tradizione dal culto dei morti di ogni santi, quindi la notte a cavallo negli Stati Uniti d'America e di là si sia diffuso. E in Basilicata ci sono testimonianze di riti analoghi? C'erano paesi in cui i morti in processione andavano a visitare le case dei loro parenti o andavano in chiesa perché c'era questa grande messa in loro suffragio ufficiata da un prete nano. Questa erano, diciamo, e chi poteva vedere queste, mai si è incontrarle, però nell'incontrare chi poteva, chi riusciva a vedere queste anime? Le anime pure, i vivi o i bambini. Questo periodo penitenziale inizia il 31 e dovrebbe finire il 6 gennaio. Se vuoi pensare il 6 gennaio dell'Epifania? Quindi è un periodo penitenziale molto lungo. E in Basilicata cosa c'è il 6 gennaio? Il 5 gennaio, anzi, a Monte Scaglioso? I Cucibocca. E tutti quanti richiamano i Cucibocca come elemento che apre il carnevale, semplicemente perché è un mascheramento. Abbiamo detto prima che il mascheramento è una forma anche di inganno verso la morte, perché gli altri spettri o spiriti, non riconoscendo l'altro, il vivo che si è mascherato, vanno innanzi, perché è una forma anche per eludere la morte, oltre che per esorcizzare. Quindi se voi pensate alla figura dei Cucibocca sono questi cappelloni, la lanterna, nel buio, le catene, le catene sono elementi del purgatorio, penitenziali, per eccellenza, il silenzio. Il carnevale tutto è tranne che silenzio. Cioè, quindi c'è un errore proprio di lettura di questi fenomeni, siccome sono mascherati, è carnevale. Quando in realtà il mascheramento, diciamo, è un elemento tipico per sfuggire alla morte o agli spettri. Quindi è anche un modo per unire la terra dei morti con la terra dei vivi, quindi per superare un po' quella che è la paura della morte e quindi di ciò che esattamente non conosciamo. E questo potere catartico, c'era anche la scrittura, Angelo Parisi è uno scrittore anche di romanzi noir, perché ha scritto Nictophobia, che è una raccolta di storie. Già dal titolo, insomma, sintetizza quella che è la paura, diciamo, la paura principe di ogni essere umano, perché è la paura del buio, è la paura dell'ignoto e non c'è ignoto più grande della morte, che io ritengo essere l'ultimo tabù rimasto e che per certi versi spiega questo attaccamento, insomma, questa tradizione rielaborata poi, come diceva prima Giuseppe, negli Stati Uniti da una base che invece è di stampo europeo, ma che ci riallaccia questa idea che ci sia appunto un al di là, ci sia qualcosa che continua oltre, perché la morte è l'ultimo tabù che è rimasto nella nostra società. L'idea che si possa in qualche modo creare, seppur in un giorno particolare, una connessione con l'aldilà che ci permetta anche di riallacciare quelli che sono gli elementi affettivi recisi appunto dal decesso di persone care, ha un suo valore di conforto, al di là di questo aspetto tenebroso, quindi è un esorcizzare la fine che nella società contemporanea è ancora più forte, perché appunto viviamo in questo eterno presente in cui si nega la fine, si nega addirittura la vecchiaia che è l'anticamera della morte e in questo contesto specifico l'idea che ci possa essere altro, anche nei miei racconti, io gioco molto su questa interconnessione tra il quotidiano e lo straordinario, che poi a mio avviso è l'elemento base di quella che poi è la paura in questo tipo di racconti, che ciò che fa paura è ciò che si va comunque a inserire nell'ordinario, che interrompe, anzi rompe l'ordinario, altrimenti non diventa elemento perturbante. Pensiamo al Signore Gianelli, il Signore Gianelli è fantasy, ma nessuno direbbe fa paura, nonostante troviamo spettri, creature mostruose, orchi, ma rimane un'opera che non suscita questo tipo di sensazioni al lettore. Halloween tra mito letterario e cultura popolare di tutto questo parlerete giovedì 31 a partire dalle 19.30 nel Palazzo della Cultura di Potenza all'interno di questo evento La Notte Nera, organizzata dal Circolo dei Librofili di Giussi Tolve e allora verremo sicuramente a trovarvi perché è un piacere ascoltarvi e scoprire queste significazioni insieme a voi. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.